Diciamo l'emozione, sicuramente è stato un pensiero a casa, insomma, come sempre, al perché e a come sono arrivato qua, quindi il pensiero va alla mia famiglia, ai miei amici e a chiunque mi sta vicino. Abbiamo costruito, diciamo, questa vittoria meglio rispetto a settimana scorsa, siamo stati molto più pazienti nel primo tempo, abbiamo fatto le cose che avevamo lavorato e nel secondo siamo riusciti a dilagare, insomma, siamo più soddisfatti e più felici di questa vittoria.